Amici di Unipet ben ritrovati dalla redazione di Napoli Magazine, chi vi parla come sempre Antonio Petrazzuolo per il punto sul Napoli. Napoli primo in classifica con 66 punti dopo 25 turni. Non bisogna mollare un passo perché la Juventus è lì alle spalle che preme e quindi è una lotta gara dopo gara in questo campionato davvero avvincente. Cagliari Napoli è una sfida che presenta delle difficoltà perché storicamente il Napoli ha sempre fatto fatica in Sardegna anche se ricordo dei precedenti emozionati, per esempio una vittoria all'ultimo respiro, all'ultimo secondo grazie a un buon incontropiede del Pocio Lavizzi. Guardando le quote di Unipet c'è poco da dire perché la vittoria del Cagliari viene data a 9, quella del Napoli a 1,36 quindi è la quota più facile su cui puntare. Io ovviamente vi consiglio il 2 perché è un risultato che può servire soprattutto se andate a giocare le multiple, quindi più partite insieme. Guardando anche un po' quelle che sono le quote particolari di Unipet relativamente a questa sfida, ce n'è una che mi ha colpito che riguarda l'over 3,5 dato a 2,70 e dato che è una partita che storicamente è sempre stata più o meno ricca di gol, io consiglio l'over in questa partita. Come sempre restate collegati su Unipet e come sempre puoi scommetterci. Alla prossima!